FABBIO VERONA Purtroppo l'altra mia passione, le camminate in montagna, non sono sufficienti a tenermi in forma. Però cosa volete farci? E così, qualche piacere nella vita bisogna portoglierselo. Non vedo l'ora di essere con voi in piantagione a trovare le sue cugine e sono sicuro che sarà un'esperienza grandiosa. Per cui, Porto Rico, aspettami, sto arrivando!